Ehi ragazzi, stiamo andando verso Piazza Marconi di Patti, un pochettino più origina. Oggi è la prima domenica di settembre 2017. Qui siamo a Piazza Marconi. Ecco, questa è la Piazza Marconi di Patti. Piazza Marconi di Patti. Come potete notare, l'hotel Marconi, che era un punto di riferimento del paese, ha chiuso i battenti. Mocchio! Ciao, Piazza Marconi! Piazza Marconi di Patti. 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 ecco qua, ritorniamo si sale, si sale, si sale, si sale, si sale, si sale vai, se Mauro è diventato rosso facciamo una cosa, ci facciamo un'altra città andiamo via di qua va facciamo una tastatina andiamo verso la cattedrale la strada è stentissima ops ecco ce la facciamo ce la facciamo una salita bella, ripida ah, eccoci qua qui c'è là in fondo con l'ombrello siamo sotto il muro delle cattedrale oh davvero che davvero che sei proprio tu la volta che ti spando oh senza uve che davvero che davvero qui c'è se una crescere puoi fare un altro passo sai perché Archie eccoci qua lo chiesco sento tal banner papapapapa mezza lumi mezza eh Fantastica la mezza luna Ma più che mezza luna io volevo mezza luna Guarda questo, va, va Almeno uno come canza la pazzetta, no Ora ecco, ci siamo rimessi di nuovo sulla strada principale che ci porta fuori dal paese Poi questa strada diventerà strada provinciale 113 se non erro Strada stradale Pa-pa-ra-pa-pa